Buonasera a tutti e benvenuti ad un rapido aggiornamento della situazione con alcune riflessioni. Tra l'altro faccio gli auguri a tutte le mamme del mondo perché sono una delle risorse più preziose in assoluto che abbiamo. L'amore di una madre è quanto di più grande possa avere un figlio. Siamo uomini ma sono le donne a crescerci. In merito a queste riflessioni vi rimando al film Fight Club, grande capolavoro di un grande regista tratto da un libro fenomenale. Allora, ritorniamo a noi. Chi copia ha sbagliato la centratura? Anche perché la partenza del quinto T-3 è qua. Abbiamo spaccato le quasi 24 barre. Siamo andati a 25. Che cosa è successo? È successa una roba interessante che però magari alcuni non avranno notato e che sta succedendo sull'inverso. Abbiamo varie possibilità, tra l'altro, di lettura dell'inverso stesso. Qui siamo arrivati a 27 barre. Qui siamo a 43. Per ora scelgo questa. Ok? Attenzione perché iniziamo ad essere prossimi a una chiusura di T-1 inverso. che potrebbe portare a un rialzo. E, peraltro, dopo un quinto T-3, con la partenza del sesto potrebbe iniziare anche un nuovo T-1. O almeno un T-2. Per cui potrebbe esserci un po' più di spinta verso l'alto. Ovviamente la controlleremo con lo swing a 34.775 dollari. Per cui non ci sono problematiche particolari. Come vedete, stiamo continuando a scendere. Come da provisioni che partono dal 16-18 di novembre. Potete sempre andare a controllare, tra l'altro, su questo canale. Trovate tutte le mie analisi su questo canale. Le trovate anche ancora più vecchie su TradingView. Non avevo ancora questa esperienza, soprattutto se tornate le prime. Ma è stata una bella palestra. È così che ci si affina, che si capisce quali sono i limiti di un metodo come la vecchia ciclica. E si possono elaborare anche nuove cose, come l'evoluta, che continuano a evolvere. Un'altra cosa interessante che faccio notare è che molti holder stanno ringraziando anche nei commenti o privatamente. Perché il minimo fatto oggi è stato registrato a 33.761 dollari. Il minimo precedente, dal quale poi abbiamo fatto un rimbalzo, un bel rimbalzo, era sotto i 33.000. Siamo a meno di 1.000 dollari, meno di 1.000 dollari dal precedente minimo, che è questo qua. 32.937. Per cui, non è che le cose capitano a caso. Le cose succedono quando c'è una certa esperienza. Quando ho iniziato a dirvi che qui c'era la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di A37 barre, e non precedentemente, dove c'erano degli errori di conteggio che avevano fatto alcuni che mi dicevano che era chiuso prima il mensile inverso, ma quando vi dicevo che la condizione qui c'era ed era chiara, e poi che cosa abbiamo fatto? Vi allargo un attimo, come al solito, la view. E qui abbiamo continuato da quando ho dato il, attenzione, questa candela può aver chiuso con il sottociclo inverso, ribassista, necessario, ovvero il baffo. Il nostro mensile inverso, fate attenzione, abbiamo avuto solo candele rosse. Una, due, tre, e oggi è la quarta. Peraltro, ribadisco, il primo target è stato ampiamente preso, quello dato nei precedenti video a 34.425, adesso nel mio inno abbiamo questo. E come detto anche nella precedente analisi, il tempo c'è. Per cui, volevo soltanto segnalarvi questo, che chi fa trading di posizione, se ovviamente si è perso anche magari una discesa così forte, compra sui top e vede che cosa succede, chi ha comprato in quest'area qua, in quest'area qua, a contatto come abbiamo fatto noi, con l'ultimo trade andato in ottimo gain sulla media mobile, e rimane per il tempo ciclico corretto, sta guadagnando bene. Per cui, non è tradire una filosofia di criptovalute, quella di andare a fare uno short sulla criptovaluta stessa, è un atteggiamento da investitore consapevole, molto consapevole, che riflette sulla teoria del cerino in mano. Se sono con un cerino in mano, è il rischio di avere un'informazione di valore come quella che mi è stata data a partire da novembre 2021, che può partire un grosso ciclo ribasso, che è poi arrivato. Ecco, immagino che sia molto positivo avere a che fare con la persona che me l'ha segnalato, le analisi sono lì, potete tornare indietro, come detto, e se tutta la sua teoria e tutte le altre analisi, nella maggior parte dei casi, risultano corrette, ecco, magari può avere senso dire che gli altri canali mi dicevano quando eravamo a 45, e anche quando eravamo a 40, che se andava a 50, qualcuno aveva di nuovo una voce fuori dal coro, chiudiamo e disiscriviamoci dai vecchi canali che non servono assolutamente a niente, che parlano di sentiment, di dati on-chain, di halving e di tante tante belle cose con cui si possono fare tanti video, che però portano, come lo stock to flow, una teoria che non funziona su niente e che funzionava su bitcoin, adesso non funziona neanche più su bitcoin, e portano a che cosa? A perdite. Dai 68.000, dai 60.000, adesso siamo a meno della metà. Queste sono perdite. Per cui, a ognuno la sua filosofia, attenzione, ribadisco, io do delle informazioni di valore, poi ognuno fa la sua scelta, in base alle sue tasche, in base ai suoi desideri, e tutto quello che desidera. Io rimarrò sempre la persona che obiettivamente fa una fotografia di quello che può succedere con un metodo statistico-matematico senza metterci dentro nessuna opinione. Questo è il valore del circolo virtuoso. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Ci sentiamo probabilmente domani mattina verso le 12 luna. Potrei fare magari un'analisi anche dopo pranzo, perché è interessante la situazione, come vi dicevo, se parte un T-1, un po' di rimbalzo c'è, se non parte, si continua ad andare verso il targettato direttamente. È una questione di tempo. Anche qui non c'è un'opinione. C'è una tempistica minima, la durata dei 6 T-3 in un settimanale, quella media 8 T-3, quella massima 11. E delle condizioni per la chiusura del settimanale stesso, ma non solo del settimanale, come detto, ma di un mensile che poi va fino a 43 giorni. non c'è altro. E noi osserviamo quello e osserviamo gli swing per capire come muoverci. Opinioni zero. Perché come detto, alziamo la sticella per sottrarre quanti più buoi del macello al parco buoi e trasformarli in investitori e trader avveduti. Questo è l'obiettivo di questo canale. Ancora buona serata. Arrivederci.